Buongiorno outfit of the day e anche faccina, faccetta, faccione del giorno e allora c'è un vestitino, un vestitino grigio, un vestitino grigio che qui è fatto di un tessuto un po' viscoso come posso chiamarlo e ci sono delle taschine, le taschine vedete ci sono attaccati dei bottoncini come anche ci sono attaccati dei bottoncini qui, questi bottoncini e c'è un collettino che è fatto in questa maniera ci sono dei collettini anche sul risvolto perché questo colletto è molto morbido e allora non sta mai al suo posto invece con dei bottoncini, i bottoncini gli fanno da peso e lo tengono lì sotto c'è una magliettina rosa, un po' rosa quasi confetto, quasi confetto ma non pastello, un po' rosa malvato e sotto ci sono dei jeans grigi che ho da moltissimi anni e ci sono anche le scarpe viola che sono tornate oggi perché è una bellissima giornata fuori e non fa neanche più freddo di tanto poi c'è questa cintura, questa cintura non so se in realtà non va bene con questo vestitino perché l'arricciatura si ferma troppo in alto e nel corso della giornata la cintura si sposterà sicuramente verso il basso qui ecco rivelando l'inizio dell'arricciatura e anche la fine di questo tessuto e anche dando fastidio all'ultimo bottoncino non lo so, forse la tolgo non lo so, questo è un vestitino che io ho da poco prima che cominciassi questo canale su youtube è stato acquistato in un negozio cinese in Italia e i bottoncini li ho attaccati io perché quando sono in vacanza in Italia, quando mi capita di essere in vacanza in Italia gioco con la mamma ad attaccare bottoni da tutte le parti e accessori del giorno c'è semplicemente questo anello che è un anello di H&M e ci sono questi orecchini che sono orecchini piccini anche loro color rosa malva più o meno la faccia del giorno, la faccia del giorno di cui non vado particolarmente orgogliosa perché oggi ho provato delle cose e alcune cose mi sono piaciute altre un po' meno allora c'è un bronzer però, il bronzer mi è piaciuto perché lo conosco molto bene il bronzer del verde che mi piace veramente tanto, il bronzer in crema che ormai ho da un anno e mezzo, infatti in questo periodo mi è venuta la mania di consumarlo in fretta perché non durerà per sempre chiaramente e finché c'è, finché c'è vorrei usarlo adesso ne ho preso una quantità immensa allora ve lo faccio vedere non spalmato che è così e scusate mi allontano un momento perché devo assolutamente rintracciare un fazzolettino altrimenti qui non andiamo d'accordo e ve lo faccio vedere non spalmato il bronzer poi tolgo una quantità in eccesso che ho preso per sbaglio e gli do una spalmatina sommaria e così è invece un po' così diffuso sulla mano e poi dopo il bronzer c'è la cipria la cipria è quella della Everyday Minerals solita e per questo non la vedete qui perché l'ho lasciata di là però c'è poi un, come si chiama, c'è un blush sotto il blush voi sapete io metto sempre un qualcosa in crema e allora il blush della situazione è questo che si chiama Pink Snowflakes ed è anche della Everyday Minerals ma il qualcosa in crema invece è un rossetto dell'Alverde per la precisione, un rossetto che si chiama 118 Yasminder che viene da una collezione limitata dell'Alverde risalente alla primavera dell'anno scorso fine inverno dell'anno scorso una collezione che si chiama My Best Friend vi faccio vedere qual è il colore di questo rossetto questo è anche il rossetto che poi ho sulle labbra quindi tornerò a parlarne fra poco e perciò lo metto qui, non lo metto nel cestino e invece il blush, questo blush vedete che colore freddo che ha sembra quasi in colore in realtà è colorato e ha dei brillantini argentati ora i brillantini argentati, i brillantini in generale della Everyday Minerals solitamente non sono troppo chiassosi questi brillantini argentati però in una qualche misura lo sono nel senso li vedo ancora forti e chiari appiccicati qui e là per la mia faccia quindi questa cosa non è che mi piaccia tantissimo questo è il colore del blush vedete è un colore estremamente discreto anche piuttosto brillante però questo blush in una certa misura mi piace in una certa altra misura mi piace un po' meno appunto per questa storia dei brillantini argentati che mi sembra di capire continuano un pochino a girare nella faccia per la faccia mentre invece solitamente i blush con i brillantini della Everyday Minerals hanno dei brillantini molto più piccoli che diffusi sul viso poi praticamente scompaiono e non si vedono quindi oggi è stata un po' una sorpresa strana poi sugli occhi sugli occhi c'è al centro della palpebra un mix ormai questa palette della Florman infatti finirà nei favoriti del mese di novembre sicuramente c'è un mix come già avete visto forse altre volte un mix di questi due colori al centro della palpebra questa è una palette che mi torna sempre utile mi piace sempre molto la uso praticamente tutti i giorni questi sono i due colori a malapena visibili perché sono molto molto leggeri infatti però applicati al centro della palpebra poi danno quella luminosità che è una luminosità carina che mi piace e poi su tutta la palpebra mobile c'è di questa palette di grigi dell'alba questa è la palette che si era rotta questa non è quella che si era rotta questa è quell'altra che ho ricomprato la palette rotta è stata ulteriormente rotta e ridotta in polvere e regalata a una collega della mamma di Stefan che prontamente dopo sondaggio della mamma di Stefan in ufficio si è offerta per adottare la palette rotta che io poi ho travasato in due jar quindi su tutta la palpebra mobile c'è questo colore bellissimissimissimissimissimo il colore dove lo metto è questo così è un colore bellissimo non so se voi riuscite a rintracciare questo colore da qualche parte vi è sicuro che c'è c'è su tutta la palpebra mobile torno a ripetere mentre invece in uscita sulla palpebra mobile e anche un pochino poi sopra la piega dell'occhio c'è di quest'altra palette dell'alverde questa è la palette che si chiama fucsia o fushia come si dice in terre straniere c'è quest'altro colore il colore scuro che è un colore scuro che però non rilascia tantissimissimo colore ed è piuttosto iridescente e questo dove lo metto facciamo che lo metto qui è così questo colore con che cosa ho diffuso oggi questi colori allora anche questa è una storiella ho diffuso questi colori con questo pennello della Kiko questo è un pennello a ventaglio pensato per le unghie in realtà però se voi ci fate caso è tondeggiante e quindi va benissimo qui e tra l'altro usato in questa maniera diffonde colore mandandolo verso l'alto ne diffonde in una misura molto molto sfumata già nel momento dell'applicazione e poi semplicemente facendo così e facendo anche questo movimento lo sfuma quindi io appoggio il colore in questa maniera mandandolo verso l'alto poi giro un pochino il pennello e faccio così per sfumarlo verso il di dentro della palpebra mobile mi è piaciuto mi ha divertito molto fare questa cosa oggi il pennello della Kiko pensato per lo smalto mi sembra che costi 4 euro qualcosa di questo genere e con questo pennello ho sfumato anche matita e tutto il resto anche sotto l'occhio mi ci sono trovata molto bene un altro pennello che ho usato oggi per sfumare ulteriormente i margini del colore è stato questo questo è un pennello della Revlon angolato che ho da tantissimo tempo l'ho detto già tante volte qui c'era una gommina una puntina di gomma che si usava per sfumare la matita questa gommina si è staccata già svariati anni fa e poi le matite della situazione le matite della situazione sono oggi due all'attaccatura delle ciglia sia sopra sia sotto c'è questa matita rosa che in realtà è una matita per le labbra della Benecos matita molto carina così e poi c'è questa matita grigia della Lavera matita anche lei è molto carina tra l'altro molto morbida un tipo di grigio che mi piace molto queste due matite ripeto sono all'attaccatura delle ciglia sia sopra sia sotto e poi sono state ampiamente sfumate il tratto sfumato è poi stato calcato di nuovo da questa matita della Zantè che ci deve essere sempre più per vezzo che l'ho messa no non è per vezzo perché faccio sempre così io faccio una prima sfumatura di più matite e poi sopra dopo aver fermato tutto con la cipria sopra riapplico un pochino di matita un po' più calcata e quindi questa è la matita della Zantè anche oggi matita che si trova anche all'interno dell'occhio poi ho voluto provare un'altra cosa ossia un lip liner un lip liner un pennarello che è come un lip stain a pennarello e che è questo di una ditta tedesca che si chiama UMA ho voluto provare questo come eyeliner è un colore bordeaux voi direte ma quante cose hai provato come eyeliner? eh a volte ed è fatto così allora questo mi piace molto in principio in generale in linea di massima però devo dire fa un tratto molto calcato e molto sottile e questo non mi è piaciuto molto per questo anche poi ho avuto bisogno della matita della Zantè per uniformare un po' il tutto non so se riuscite a vedere alla fine è venuta fuori una cosa possibile però insomma ci è voluto un po' più di tempo era semplicemente una provina e poi ripeto ancora una volta sulle labbra c'è il budget balm come base solita e poi sopra c'è questo rossetto dell'alverde di nuovo sempre lui lo stesso che ho usato come base cremosa sulle guance che si chiama numero 118 jasminder vi ho fatto vedere già il colore sulla mano e il colore è questo un colore veramente carino veramente veramente carino di quella collezione è uno di quelli che uso più spesso e poi sopra per un po' di lucentezza c'è questa cosina qui del body shop che è una cosina nuovissima è una cosina che è uscita da pochissimo tempo fa parte un po' della collezione natalizia della collezione invernal trattino natalizia e sono capitata tre giorni fa al body shop e mi sono riportata a casa questa cosina perché effettivamente come luminosità è molto potente vi faccio vedere com'è qui sulla mano è così e poi vedete è proprio molto potente è molto cremoso di un cremoso quasi duro che rimane abbastanza fermo e quindi è necessariamente anche un pochino appiccicoso appiccicoso però poi non si sente l'appiccicume nelle labbra voglio dire non attacca le labbra insieme va via mangiando lo sto portando da tre giorni quindi lo sto sperimentando da tre giorni e dentro ci sono dei brillantini minuscoli dorati esiste in quattro colorazioni di queste quattro colorazioni quelle veramente 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 carine secondo me sono due ossia la prima e l'ultima l'ultima è questa che è proprio un gloss quasi trasparente con questi brillantini dorati che gli danno un aspetto quasi rosato crema crema da cappuccino quasi ma molto molto leggero e invece l'altro anche molto molto interessante è un color pesca leggerissimo con dentro brillantini dorati come questi però di un dorato più intenso e quello è veramente veramente bello gli altri due di questa collezione del body shop sono sono dei rosa c'è un rosa più scuro rosa più chiaro però comunque sempre molto molto leggeri tra l'altro questo gloss ha un odore intensissimo di come si dice pampermuse in italiano adesso di sapete quella cosa che si spreme in alternativa alle arance pompelmo ecco si ha un odore molto intenso di pompelmo e tutti e quattro i gloss hanno lo stesso odore e si vede che sono stata a fare una passeggiata dal body shop l'altro giorno al body shop io non compro moltissimo però vado sempre a tenere d'occhio le nuove collezioni le nuove cose che escono così semplicemente anche per passatempo questo gloss è piccino piccino vedete costa 5 euro è carino qui sopra c'è scritto eye shine lip treatment ecco io non mi fiderei tantissimo di questo lip treatment non prendetelo veramente per un trattamento per le labbra però come shine lo shine c'è si vede potente basta questo outfit face of the day è finito io adesso sto andando allegramente simpaticamente a lavorare in questi giorni non ho smalti sulle unghie semplicemente perché non mi ha preso la scia dello smalto all'inizio della settimana prima dell'inizio della settimana e quindi poi adesso va così va così probabilmente per tutta la settimana scusate stavo per far cadere tutta la scatolina con dentro la borsina con dentro tutte le cose che vi ho fatto appena vedere il che avrebbe provocato di nuovo la polverizzazione delle due palette dell'alba e lì proprio mi avreste visto mettermi a piangere ma fortunatamente non è successo per questo video non è successo chissà magari succederà in un altro video ma non credo perché non mi lascia andare molto a manifestazioni di tenerezza su internet anzi a proposito state sempre attenti a non manifestare troppo tenerezza la tenerezza è un bel sentimento ed è un sentimento che ci vuole perché altrimenti si diventa cinici a non voler essere teneri a voler rinunciare sempre alla tenerezza si rischia di diventare cinici per nessun motivo state sempre attenti le vostre manifestazioni di tenerezza su internet perché la tenerezza è un qualcosa che esce spontaneamente qualche volta ed è piacevole ed ha anche un valore un valore che andrebbe rispettato spesso però la tenerezza dalle altre persone che forse non non lo so che dalle altre persone a volte la tenerezza viene ridicolizzata ridicolizzata sul momento perché magari uno non se l'aspetta e questo non è bello non è bello non è bello da parte di chi ha espresso un momento di tenerezza vedere altre persone che mettono in ridicolo questo momento che non significa niente che è un qualcosa di semplicemente così la tenerezza è la tenerezza è un qualcosa di tenero è come quando io vedo un bambino figlio di una mia amica figlio di qualcuno che conosco e vedo le manine cicciotte con i buchini ecco quello mi provoca un momento di tenerezza e quindi do la manina alla manina del bambino stringo la manina alla manina del bambino se prima mi sono lavata le mani altrimenti purtroppo desisto e quello è un momento di tenerezza che non significa niente non significa che voglio rubare il bambino voglio portarmelo a casa voglio contaminarlo è semplicemente un momento di tenerezza e così come questo tipo di momento di tenerezza ce ne sono tanti altri che possono uscire spontaneamente senza nessun significato particolare però su internet la tenerezza non è mai una buona idea si rischia di mettersi da soli dentro delle trappole brutte e stupide che vi fanno passare per persone un po' ingenue un po' ridicole e questa non è una cosa piacevole e ve lo dico io che tendo io tendo anche io tendo a smontare la sdolcinatezza la tenerezza no la tenerezza la rispetto e tento sempre di rispettarla molto chiaramente qualche volta mi posso sbagliare qualche volta ci sono delle persone che lasciano dei commenti intendendoli come teneri e io reagisco smontandoli intendendo quei commenti come sdolcinati la sdolcinatezza non mi piace la tenerezza però andrebbe rispettata quindi sia a me stessa sia a voi io in questo momento che cosa sto dicendo sto dicendo lasciamoci un po' di spazio per la tenerezza perché non è un bau bau la tenerezza non è una cosa negativa da eliminare dalla faccia della terra la tenerezza è semplicemente tenerezza e ha bisogno di spazio e basta e quindi perché vi sto dicendo tutto questo ma bu non si sa mistero cantava una volta Enrico Ruggeri non mi ricordo mistero si cantava Enrico Ruggeri questa canzone vabbè ciao ci siamo visti anche oggi ho fatto anche la predica il predicozzo questa cosa appartiene un po' al mio segno fare lanciare ogni tanto i predicozzi ciao 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 buona giornata ciao